Il dirizio della sessione programma è stato definito e cambiato da parte, con la descrizione tecnica. Ok, si è stato fatto. Cioè non appena presentato il protocollo di 50-60 protocollo, ma appena presentato il protocollo. Il protocollo del 19 novembre viene affidata alla ditta tecnose di sicurezza. Considerato che però, nella legale numero 1 e altre serie, no? Cioè, o lei non partire, perché una volta che fa una cosa, non è, 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 non è. Il dirizio di presentare il bozzetto, il bozzetto proposito per la scelta sarà operata dalla ditta tecnica. Quindi, la scelta è stata la stessa, la scelta. Ebbene, dove stavano questi bozzetti? Se io sono andorato da un vicesegretario, e mi ha detto, questa è la scelta, non c'è nessun consiglio. Ma questo potrebbe anche interessarci meno. Mi deve spiegare, come in due volte, la ditta si trova in disponibilità di quel materiale che lei ha rimiso, proprio a quel materiale, sarebbe dovuto venire al comune. Lei ha sceglito il tipo di domina, lei ha visionato i bozzetti che non ci stanno. Non ci stanno i bozzetti. O devo pensare che Gianluciano mi ha avuto i bozzetti, se la prendiamo con gli uffici, qui sono tutti. Ma non sta qua, se stai con l'unità, scendiamo i bozzetti. Allora, è bene la stessa ditta che fa, monta le luminali in forze. Allora, dopo questi, i bozzetti e i bozzetti, alle 16 e 44 del 19, venne il comune fuso, la ditta presenta una scelta, la ditta presenta una scelta, una scelta, una scelta di sicurezza, disattenza con la festa del capitolo. Alle 16 e 44 la ditta parte, alle 16 e 44 e un secondo, e cominciano a montare le luminali. Montano queste luminali? Bene il mistero, per esempio. Mi sembra fare qualche volta qualche ditta non mi, per fare una finestra che dice, ma non si fa una scelta, non si fa una scelta, ma 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 non si fa una scelta, e vede la stessa ditta monta utuminali in forza di queste scelta. E' il riferimento del disciplinato e a qualco? Si rilevano quando sei un antico o un altro. Lei però, come sa, è un'unità. Vabbè. Contemperando a quanto viene eventualmente indicata dall'autorità preposta al controllo della disciplina del capitolo.